La lista libertà pretende più benzina dei trattori e meno dei cararmati. Vogliamo la pace? Fermiamo la lobby delle armi. Non vogliamo più questa Europa liberticida che sta facendo saltare la nostra sovranità. Sta mettendo a dura prova le nostre aziende agricole, le nostre aziende enzotecniche, la nostra pesca. Sta mettendo le mani sulle nostre spiagge con la Bonkestein che sta cancellando le nostre tradizioni balneari. Una Europa liberticida e noi la vogliamo fermare. Un patto intergenerazionale che garantisca ai giovani una prospettiva nella sanità e anche per il sistema pensionistico. Combattiamo questo centralismo, quello statale e quello europeo. Fermiamo l'Unione Europea liberticida e sosteniamo la sovranità.